Un tavolo sul futuro della Sevel in Abruzzo e quanto chiede la FIOM CGL alla Regione. I timori, dice il segretario regionale Alfredo Fegatelli in conferenza stampa a Lanciano, riguardano PSA che in Polonia sta puntando sulla produzione dei veicoli commerciali leggeri. Ovviamente abbiamo già avuto un incontro qualche tempo fa dove abbiamo manifestato la nostra perplessità sulla debolezza del sistema Sevel. La seconda questione è data dal fatto che ovviamente non si sta parlando di investimenti e quindi non sappiamo quale sarà il futuro del nuovo furgone e dove questo nuovo furgone verrà realizzato. L'altra cosa che abbiamo notato è la debolezza del sistema di fornitura di Sevel che è localizzato nel nostro territorio dove ovviamente c'è una monocommittenza che se ovviamente dovesse entrare in crisi questo sistema entra in crisi tutto quanto il territorio. Per questo noi chiediamo alle istituzioni di prendere immediatamente in considerazione questa situazione e intervenire. Inevitabilmente il discorso si sposta a livello internazionale, in particolare occhi puntati sulla Polonia. Perché? La Polonia è un sistema che si sta realizzando e quindi ancora non è partito ma che sta già prevedendo diciamo delle aziende fornitrici autonome e quindi di consenso si potrebbe aprire anche una discussione sulla concorrenza delle attuali aziende presenti nel nostro territorio con le aziende polacche che produrranno più o meno le stesse identiche cose. Quali sono le parole, le dichiarazioni dei vertici aziendali che vi fanno preoccupare? Rispetto alla vicenda della Polonia c'è un'intervista che è stata fatta qualche tempo fa dove praticamente si diceva che veniva spostato in Europa dall'Inghilterra la produzione dell'Opel Astra e a una domanda specifica se veniva fatta in Polonia la risposta è stata no perché la Polonia sarà diciamo il centro per la realizzazione dei veicoli commerciali. Oggi sappiamo che l'Opel Astra verrà prodotta in Germania. E quindi da questo che cosa deducete? Che PSA sta lavorando moltissimo con il governo polacco per potenziare quel sito di Gliwicz dove nel 2021 si dovrebbe raggiungere la capacità produttiva di almeno 100.000 furgoni e che hanno un accordo decennale per quanto riguarda lo sviluppo di quel territorio. Grazie. 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 Grazie.